È rimasto solo per prendere i soldi dai due padroni della città. Credo che Doyle sia stato il primo a pagarlo. O forse è stato Strozi, non ricordo. Chi è Strozi? Il capo dell'altra banda che c'è qui. Strozi, Doyle e i loro uomini hanno preso in mano Jericho. Hanno cacciato via le persone per bene. Vengono dalla stessa grande città. Ma non si piacciono molto. Contrabbandieri di alcol. Gli Strozi stanno allo Sweetwater e i Doyle sono all'albergo Alamo. Mi lasciano stare perché io mi faccio gli affari miei. Credono che io sia pazzo. E adesso che fai? Vado da quelli che hanno maltrattato la mia macchina. Ci faccio due chiacchiere. Anche se l'accoglienza era stata un po' freddina, cominciavo a pensare che forse era il mio giorno fortunato. Uno sceriffo corrotto e due bande di contrabbandieri che si odiavano. Se mi muovevo bene, potevo fare parecchi soldi e poi me ne sarei andato. Signora. In questa città hanno tutti paura. Devi andartene o l'unica cosa che troverai... è la morte. Pensavo d'averti spiegato che da queste parti ci sono persone che non devi neanche guardare. Quella è di proprietà del signor Doyle. Io sono venuto per vedere te. Davvero? Già. Non hai ancora fatto aggiustare la macchina? Purtroppo sono accorto dei soldi. Mi chiedevo se potevi aiutarmi tu a pagare i danni. Mi pare di capire che vorresti uccidermi. Sì, e scusa se ti faccio male. Dite a Doyle che questo non sarebbe successo se avesse uomini in gara. da mappa. Grazie.